ciao elena buonasera creative ciao paola aspettiamo due minuti forse sono qualche minuto in anticipo stasera stranamente aspettiamo qualche minutino che si collega a qualcun'altra e poi partiamo con il progetto di stasera allora ciao anna ciao tonia ciao katia allora aspettiamo ancora qualche minutino che si collega a qualcuno e partiamo allora stasera progetto ciao domenica progetto di ciao angela ciao maria ciao marisa allora stasera progetto di ti guardo un po prima di montare il tuo ok katia io no io ho già finito ciao ilaria ciao maria intanto io vi saluto mentre aspettiamo qualcun'altra che si collega ciao patrizia stasera progetto con materiale di scarto allora materiale di scarto ragazze porca miseria materiale di scarto ho lasciato lo scarto sotto arrivo ecco io se non dimentico i pezzi non sono non sono io allora ciao gianna ciao maria ciao cristina intanto allora ciao rossi collana faremo una collana stile questa adesso poi ve la farò vedere meglio con materiale di scarto sia la collana e guardita l'ha già notato e se abbiamo tempo che facciamo una cosa veloce facciamo anche l'orecchino sempre fatto con gli scarti del jeans questo qui in paruro con la collana aia mi sono appunto il sedere con uno spillino bene fantastico ciao rossella quindi collana e orecchini se facciamo veloce facciamo anche l'orecchino l'ho montato su dieci minuti fa questo ed è carino e vero che sono carini gli orecchini ho detto ma si ma proviamo a fare anche gli orecchini ok giuseppina brava giuseppina facciamo orecchini e collana allora io adesso basterò si gli orecchini sono così ma la collana uguale adesso basterò il telefonino la vedrete meglio la collana e vedrete che è molto carina anche la collana fatta con gli scarti adesso io la lista ve l'ho già fatta ciao tizi e questi sono i miei capelli naturali quando non li faccio asciugare al naturale io sono così leggermente mossa e allora scarti del di jeans ma proprio scarti vedete proprio pezzettini che ovviamente tutte voi buttate no ovviamente io vi dico sempre non si butta via niente da vedete proprio pezzettini piccoli da questi scarti ciao anna facciamo appunto l'orecchino e la collana abbinati facciamo una parura quindi scarti io ho utilizzato un cotone un po' spesso ma potete utilizzare anche il filo di nylon che io ce l'ho ma non sono riuscito a trovarlo poi io qui vedete al fondo e anche sulla collana dell'orecchino ok quindi io ho comperato vedete dei ciondolini ma potete anche staccarli da una collana che magari non mettete più ho trovato delle farfalline dei cuoricini delle perline di qualunque colore io le userò argento delle monachine non so come si chiamino sinceramente anche queste le trovate dai cinesi a un euro un euro e cinquanta vedete per gli orecchini e poi io avevo comprato ma tantissimi anni fa queste cosine qua credo che si trovino anche dai cinesi io le avevo presi in un ingrosso cinese addirittura quando avevo il negozio che sono degli anellini che apribili anellini apribili del io userò per fare la collana un montante di una collana che ho staccato da un'altra collana quindi vedete c'è la chiusura e la catenella ma non è io l'ho smontata da una collana si adesso ve li faccio allora se facciamo veloce a fare quello della collana che è uguale facciamo anche gli orecchini perché farà tutto paruri insieme tanto è velocissimo anche l'orecchino da fare ecco si chiareva che non mi chiamava il mio compagno proprio adesso va bene lasciamolo squillare dicevo io ho usato il montante di una collana di una collana che non mi chiedo più ma se non avete la collana non volete comprare la catena e tutto va bene anche del raso dell'assone di raso o della coda di topo quindi adesso io abbasso il telefono mi sono già portata avanti un po' con il lavoro e vi faccio vedere come facciamo come montiamo sulla collana con gli scarti degli scarti degli scarti degli scarti degli scarti del jeans soprattutto di utilizzare una colla per tessuti va bene anche la bostik l'artiglio la gutterman per tessuti la vinilica non tanto la colla caldo perché la colla caldo ovviamente essendo parti che dovremo mettere spesso togliere mettere e uscire c'è anche la collana è una cosa che avremo addosso quindi la colla caldo col tempo cristallizza e tende poi a staccarsi quindi vi consiglio più delle colle appunto vinilica per tessuti bostik cartiglio gutterman queste colle aceto vinilica queste colle qua allora no 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 rispondo perché sennò poi non riesco più a rientrare nella diretta l'ho chiamato 5 minuti prima non mi ha risposto e lo chiamerò a fine ciao sandra allora io abbasso adesso il telefonino e cominciamo aspettate ragazze mentre adesso smonto tutto si scazza tutto come il mio solito allora aspettate ok il bancone dovrebbe vedersi ok questa vedete è la collana che io ho cominciato a realizzare vediamo se abbiamo un supporto quindi ve la faccio vedere bene aspettate ragazzi aspettate allora io la farò a tre giri questa collana poi potete sceglierla di fare a uno a tre a quattro giri vedete ha sempre i ciondolini come per l'orecchino lo stesso ciondolino ne ha due o tre ha le perline ha alcune perline ed è fatta vedete sono delle strisce fatte con gli scarti del jeans che adesso vi farò vedere che poi li uniremo insieme con un supporto sotto e faremo la collana grazie Lorenza allora cominciamo scarti degli scarti degli scarti degli scarti degli scarti del jeans chi sta facendo il corso delle borse sull'altro subgruppo avrà sicuramente finito di realizzare il fiore avanzato tanti pezzettini di jeans e li facciamo stasera li facciamo insieme ragazze facciamo la collana e gli orecchini facciamo una parur a costo zero con tutto materiale da buttare allora quindi prendiamo tutti i nostri pezzettini possibilmente di colori differenti un po' più chiari un po' più scuri ma se no anche del medesimo colore tutti proprio gli scarti che di solito finiscono nell'immondizia noi li mettiamo qui io ho fatto qua due strisce due più una più grande una un po' più piccola e adesso ne farò una ancora più piccola e poi andremo a montare insieme non si vedono bene forse nel tutorial ma dal vivo è molto bella ragazze dal vivo vedete da vicino forse nella foto in video perde un pochettino vedete ha le perle e ha anche questi ciondolini adesso attaccherò qualcuno in più fate così allora io li ho buttati i pezzettini eh Tiziana io ve l'ho scritto già tante volte io scrivi un vi feci c'è anche un post dove io dissi del facciamo la collana in jeans perché la il jeans è come il maiale non si butta via niente ed era così era la realtà non era una battuta non si butta via niente non buttiamo niente neanche la cucitura questa è qua la cucitura interna se voi aprite il jeans c'è una parte fatta tagli e cuci questa qui non si butta si tiene la parte che congiunge i due jeans si arrotola si incolla si fa il montante dell'anello si mette una bella perla e si fanno ehm si fanno gli anelli si fanno le collane si fanno le spille eh si decorano con altri tipi di di paillette per le cose e si fanno montanti per spille anelli e cose varie quindi non si del jeans non dovete neanche la cerniera perché la cerniera serve per fare dei fiori non si butta via nulla ok quindi prendiamo i nostri pezzettini di jeans io qui ne ho fatti tre strisce vi dico le misure che ho fatto io ma le ho fatte a sentimento eh non sono allora qui ne faremo tre di cui appunto una io l'ho fatta circa 27 cm questa è circa 19 l'altra credo che la farò circa 15 più o meno allora andiamo a prendere il nostro ago col filo un po' spesso o il filo di nylon io avevo il filo di nylon ovviamente non l'ho trovato l'ho diventata pazza sono arrivata tardi da lavoro stasera ho detto vabbè usiamo questo qui spesso tanto poi verrà incollata sul supporto quindi non dovrebbe succedere nulla eh mio figlio dice che sono un'accumulatrice compulsiva esattamente anch'io sono un'accumulatrice seriale ragazze allora cominciamo a prendere le nostre i nostri pezzettini di qualunque forma e dimensione non importa andremo a prendere da un punto qualunque e andremo a fare semplicemente così dentro e fuori lasciando alcuni pezzi un po' più lunghi vedete e lo andiamo a portare fino in fondo al nostro filo nient'altro che questo vedete che hanno tutte forme differenti poco ci frega quindi noi andremo a fare questo lavoro con tutti i pezzettini ovviamente cercando di alternare un po' i colori se avete più colori e se non avete invece solo un colore pazienza utilizzerete solo quel colore tanto viene carina uguale e andremo a tirare giù così nient'altro che questo vedete qualunque forma abbia il nostro jeans niente di più semplice ragazze è proprio una cavolata dall'asilo però magari uno non ci pensa e vi garantisco che l'effetto è straordinario dal vivo è veramente molto d'effetto soprattutto magari se scegliete di vestirvi tutte di nero tutte di grigio magari un po' monocolore mettete la collana con gli orecchini così secondo me andate da qualche parte vi chiedono tutti dove l'avete presa sta collana e questi orecchini perché veramente è d'effetto come cosa ok vedete semplicemente andiamo a fare questa cosa qua né più né meno una cavolata eh allora Angelica cosa creiamo di bello facciamo gli orecchini e la collana con gli scarti degli jeans facciamo una parurra vedendo il video con mia nipote di otto anni buon proseguimento finisco di vederti stanotte ok Katia ci finisce di vedere stanotte perché lavora pensato si potesse creare una cosa esatto Tiziana di solito uno non ci pensa di solito uno queste cose le butta e non pensa che anche appunto da questi piccoli scarti può nascere una cosa veramente di super effetto perché dopo io ve la faccio vedere magari tipo indossata insieme alla parur e vedete che beh è molto bella molto particolare e allora andiamo a fare vedete man mano per quello io ve lo ve lo dissi del jeans non si butta via nulla ma non stavo scherzando era la verità perché io avevo già in questo post lo feci già un po' di tempo fa dove vi avevo detto non buttate gli scarti del jeans perché faremo una parur ok e andiamo vedete non importa quale sia la forma del pezzettino non dovete stare a ritagliare né niente semplicemente andate a fare una cosa così ok e andiamo io le altre due strisce le ho già preparate poi però questa ci tenevo a farla con voi vedete ne lasciate alcuni pezzi un po' più lunghi vedete un po' le punte vedete le lasciate di proposito proprio un po' più lunghe e andate a fare questa cosa qui tirando quando scendete giù non troppo grazie Angelica grazie grazie ma si possono fare tantissime cose per quello voi non buttate nulla anche la cerniera recuperatela le cuciture laterali le recuperatele perché con tutti quei pezzi che a voi sembrano inutili si creano dei gioielli particolarissimi aspettate ragazzi forse dovevo portarmi anche un po' avanti ma tanto poi è abbastanza veloce come assemblaggio di due praticamente il grosso del lavoro adesso questo è un po' grande lo vado a tagliare ok eh vi ho stupito con i pezzi speciali vi ho stupito se non ho avanzi così piccoli taglio pezzate un pezzo di z esatto ma Mariella se non hai pezzi così piccoli basta anche magari a volte quei jeans adesso si portano anch'io li ho tutti strappatissimi jeans dopo un po' eh si strappano ancora di più che quelli che che sono strappati e o va in giro in mutande ma non c'ho più l'età o o li butti no anziché buttarli soprattutto quelli tutti strappati rovinati anche da anche da ragazzini adesso sono tutti così anche se avete nipote o cose varie eh fate tanti pezzettini vedete tanti piccoli pezzettini e montate su ehm e vi montate su la vostra collana arrivo ragazzi vi faccio perdere un po' di tempo ma pensavo che era un po' più veloce se no mi sarei portata un po' avanti ma facciamo ci siamo quasi eh ok che lavoro fai o avevi un negozio no io avevo un negozio allora io adesso faccio la governante per una casa di miliardari ricchissimi degli imprenditori ehm però prima per 18 anni io ho avuto un negozio di intimo merceria quindi diciamo i materiali diciamo la roba di merceria ho imparato la a capire i filati le varie cose quelle cose lì però non era una creativa eh assolutamente vendevo intimo e merceria stop fine dei giochi tutto lì ok andiamo a vedere se ancora un pochettino eh ragazze vi faccio perdere ancora un minutino ma io vado la rivedo dopo la diretta ciao ciao Angelica ok tanto rimane salvata eh su in evidenza potete poi chi la peca adesso deve scappare o non può vederla la trovate archiviata lì e la potete rivedere quando volete ehm allora Tiziana io ho iniziato a creare da pochissimo ho iniziato a creare ottobre di due anni fa quindi io creo solo da da due anni e due anni fa non sapevo neanche la differenza tra che ne so eh jersey cotone cotone americano flanella feltro pannolenci non non sapevo neanche le differenze di questi tessuti e poi grazie a Cinzia l'altra amministratrice che ha visto ha visto in me più di quello che vedessi io mi ha proposto di collaborare insieme e ho scoperto di essere portata di avere una vena creativa di essere portata poi siamo tutte portate di avere una vena creativa che non conoscevo però creo creo da pochissimo quindi ok facciamo ancora un paio di giri e poi direi che abbiamo finito me ne avanzeranno per fare gli orecchini sì sì mi avanzano mi avanzano ok vedete super super semplice grazie tiziana quindi se ci sono riuscita io ragazze ci potete chiunque può creare qualunque cosa partendo dal nulla ok forse adesso ci siamo mettiamo ancora un paio di pezzi e abbiamo finito ok così 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 e così e direi ok che ci siamo vedete guardate che carino a questo punto io ne ho fatto ne dovete fare tre o potete farle anche solo una allora adesso per montarla tu su ci sono diversi metodi cioè nel senso potete come ho fatto io che ho fatto tre strisce dalla più lunga sono imprevedibile cosa stai facendo Antone allora io sto stiamo facendo degli orecchini con gli scarti di jeans questi qua ed è una collana uguale sempre con i pezzettini di scarto di jeans quindi facciamo una parure orecchini e collana allora potete poi scegliere per montarla su potete scegliere o di fare così come farò io tipo ecco a tre strisce fate così forse ne ho messe un po' troppo adesso qui togliamolo un pezzo facciamo così o potete scegliere di fare le strisce un po' più lunghe tipo questa un po' più lunghe le andrete ad arrotolare vedete tipo così e le monterete tipo così tipo ne farete sempre tre tipo tre verrà vedete la forma verrà tipo un fiore questo sembrerà quasi un fiore e le monterete a tre fiori così magari due più grandi laterali e uno un po' più piccolo centrale io ho deciso di fare la striscia questa poi l'altra magari la farò tipo effetto fiori quindi fate le tre misure ovviamente io le ho fatte a scalare dalla più grande un po' alla più piccola quando avete finito arrivate più o meno qui non fate nient'altro che fare un nodino un paio di nodini non solo uno alla fine del vostro lavoro uno all'inizio e uno alla fine in modo da bloccare il lavoro ok io ne faccio due o tre in modo che sono sicura che non si smonterà ok si un paio bastano e vado a tagliare il file in eccesso ok le perline i cendeli come li hai attaccati adesso ve lo faccio vedere ragazze finiamo di facciamo un pezzo per volta ma vi faccio vedere tutto allora una volta arrivato a questo punto prendete vedete la prendete appoggiate più o meno la forma della vostra collana non so non so se metterne tre ragazze perché tre mi sembra tanto adesso vedo forse forse questa la farei a due secondo me due è già parecchio io forse questa la faccio a due ragazze non a tre tre mi sembra tanto la faccio a due l'altra la tengo per fare per fare l'altra comunque tanto dovete ho fatto due o tre strisce potete appunto sceglierle di lasciarle così o di arrotolarle tipo fiori vero che è più bella due Marisa anche secondo me è più bella due tre viene troppo 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 allora poi prendete un jeans un pezzo di un jeans io qui ho un jeans la gamba di un jeans l'appoggiate l'appoggiate sopra e più o meno andate adesso chissà ho preso la matita sicuro andate a farvi più o meno la forma appoggiando sopra fatelo dopo questo passaggio una volta che perché ovviamente non diverranno mai uguali essendo scarti di jeans quindi andate ad appoggiare più o meno sopra il decalcato io avevo una matita ma con una penna un pennarello va meglio e andate a ritagliare tenetevi un po' più 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 piccolo di quello che avete decalcato perché non dovrà uscire ovviamente la parte ok ok non vedo niente con la matita con tutte le penne penarelli a matita se no da prendere questa sarà la base vedete non importa che venga storta tanto dovrà solo sorreggere la nostra parur quindi vedete che non è non è uguale ma non importa perché ovviamente le nostre strisce sono fatte con gli avanzi non sono regolari per dare un po' più di sostegno alla collana ma la andiamo ne andiamo a fare due quindi doppiamo doppiamo mettiamo due spillini ne andremo a fare doppio questo lavoro qui la stessa cosa potete scegliere di fare una cosa così la base così e fare le roselline queste qua che abbiamo fatto ovviamente le dovrete fare molto più piccole e andrete a ricoprire tutta magari una fascia qui molto più grande potete farla anche con lo stesso principio fare queste roselline qua le montate prima su più o meno come vi piace disegnate sempre sul jeans sotto e poi le andrete ad applicare ovviamente fatele più piccole di così e potrete fare tutto un bel fascione da mettere sempre come collana però adesso era proprio per utilizzare proprio gli scarti e quindi ho optato per questo modello ok andiamo a ritagliare in doppio e questa sarà la base della nostra collana ragazze non so se si è capito ma quest'anno jeans tutti i progetti con i jeans quindi recuperate jeans perché faremo anche altri progetti ma sempre in jeans faremo anche i conigli di Pasqua sempre in jeans quindi jeans come se non ci fosse domani e Marisa riguardati il tutorial e prova perché sei semplice aggiungi brillantini poi potete aggiungere brillantini come se non ci fosse domani allora doppiamo a questo punto abbiamo doppiato il nostro jeans in modo da dargli un po' più di struttura io adesso incollerò queste due parti per chi ha la struttura così come me la collana fatta così e qualche sia copercinta adesso poi vi farò vedere come decorarlo e anche la incollerà e poi applicheremo io vedete ho messo quei cerchietti che vi ho fatto vedere lo aprirò e lo andrò ad inserire da un lato e dall'altro per chi non ha ovviamente il montante di una collana può utilizzare del raso o della coda di topo io adesso qui ho del raso che ovviamente è sigillato e ti pareva che non era sigillato con tutti anche qua ho preso l'unico che è ancora ad aprire con tutti i rasi che avevo ecco potete utilizzare anche del raso o della coda di topo magari con i stessi colori con cui sceglierete di abbellire le perline e quindi la incollerete ecco vedete in mezzo da una parte o dall'altra e poi verrà legato ovviamente poi qua dove incollate andate a dare anche due punti a mano in modo da rafforzare perché se no metti e togli e metti e togli magari poi si sfila via il nastrino io userò appunto il montante così di una vecchia collana e quindi la farò in acciaio diciamo così non in raso o in coda di topo ma per chi non ce l'hai magari vuole provare può usare appunto la coda di topo o il raso a questo punto io utilizzo una colla per tessuti perché come vi ho detto appunto la la colla la oh mio dio non riesco neanche più a parlare la colla caldo col tempo cristallizza e si tende a staccare poi dai supporti dai tessuti o qualunque sia il supporto e siccome la collana è un accessorio che metti togli non è come un oggetto una bambolina che l'appoggiate lì difficilmente e difficilmente si rovina preferisco appunto bostic la colla vinilica anche la vinilica va bene l'aceto vinilica l'artiglio ma non la colla caldo poi se volete potete anche metterla e la colla caldo io la sconsiglio poi nulla vi vieta comunque di utilizzarla allora si potete anche cucirlo si si l'aria potete anche anche cucirle le appoggiate sopra e fate la cucitura e si blocca lo stesso potete anche cucirla io adesso questo progetto l'ho fatto anche per chi non anche si la blocca dice Sandra io non la conosco ma l'aveva già detto che è una colla molto valida e non costa tantissimo Giuseppina non cucirlo perché magari sul gruppo questo qua sul gruppo qua non tutte cuciono ecco semplicemente non tutti hanno la macchina da cucire e quindi magari su tanti progetti dove si può dare la possibilità anche a loro di farlo diamo l'alternativa ovviamente voi che sapete cucire andate di macchina ecco però ci sono tante che magari lavorano la gomma eva o magari non hanno mai cucito comunque non è nelle loro corde cucire però magari hanno piacere lo stesso di realizzare una cosa del genere quindi possono farlo allora quindi dopo che abbiamo incollato andremo sempre ad applicare anche qui io andrò ad applicare con la colla ragazze poi voi siamo sempre lì potete scegliere o di cucire con qualche punto a mano io non la metterò adesso perché ha una vediamo secondo me mi si smonta perché ha un'asciugatura più lenta ovviamente che la colla a caldo però proviamoci ho paura che adesso come la tiro su verrà via tutto perché ha bisogno di più tempo questa per per fare presa potrete appunto anche cucirla con qualche punto a mano e adesso io per per semplificare diciamo la ok la diretta e renderla più veloce perché ovviamente se mi metto a cucire a mano già adesso vi devo attaccare le perline le cose facciamo notte insieme volevo farvi vedere anche l'orecchino vabbè noi ci proviamo poi vediamo se quando tiro su mi si smonta tutto allora mettiamo le due parti ovviamente questa dovrà stare tutta la notte a far presa bene la colla in modo che quando tirerò su la mia collana ecco adesso mi cadrà vedete avrà un supporto sotto a questo punto quando poi sarà asciutta monterò su le mia la mia catenella che appunto vedete io l'ho staccata da un'altra collana ho semplicemente aggiunto questi anellini che ho aperto e poi ho richiuso e che aprirò di nuovo e andrò con un punteruolo farò un buco nel jeans e andrò ad inserire dentro il montante sotto che abbiamo fatto in jeans a questo punto io vi faccio vedere su questa ovviamente lo fate prima di incollarla andiamo ad attaccare per renderlo un po' più carino delle perline delle paillette delle perline delle allora vedete io qua ho utilizzato vedete questi ciondolini così li ho trovati anche a farfalla carini questi li ho trovati dai cinesi quindi mi sembra un euro e cinquanta la bustina con una bustina realizzate sia gli orecchini è bella vero Giusy ciao amica guarda cosa ho fatto amica orecchina adesso ti faccio vedere poi anche la collana vedi anche la collana che dal vivo è più bella ragazze qui si vede poco nel video si vede poco però vi garantisco che dal vivo è molto d'effetto allora attacchiamo i nostri ciondolini poi potete anche smontare una collana se hanno delle perle delle ciondole una collana che magari non vi piace più anche lì la bigiotteria non si butta mai si stacca tutta si smonta e si riutilizza andiamo vedete dove ci sono le pieghe del del nostro infilaggio di scarti andiamo a dare un punto e andiamo semplicemente vedete qui ha già il passante a dare a fare due o tre giri in modo da bloccarlo alla nostra collana aspettate ragazzi ho fatto un filo lungo troppo lungo ecco vedete andate a dare due o tre giri in modo che siamo sempre lì non dopo la seconda volta che la mettete non vi si smonti il tutto io qua ho utilizzato un filo sottile doppio perché si vedesse il meno possibile potete utilizzare appunto anche i fili quelli di nylon quelli trasparenti io li avevo di tutte le misure di tutto non ho trovato la scatola ma sono arrivata tardi da lavoro stasera e non ho avuto neanche tempo di cercarla quindi fate tre o quattro giri in modo da bloccare bene la vostra medaglietta bloccate il tutto con un paio di punti e potete metterne una due tre quattro riempirla quante ne volete io ne ho messe due nel giro più grande e qui forse ne metterò altre due adesso vediamo tanto finirò vedete si può non solo fare i buchi per inserire la catenella e mi sono spiegata la pistola quella che si Katia potete per chi ha io ce l'ho ma ce l'ha mio padre quella macchina che si utilizza per fare i buchi delle cinture mette anche praticamente dei cerchietti in metallo poi vanno ancora meglio per chi ha quel macchinario lì mettete un anellino di metallo con l'altro anellino di metallo infilate e viene perfetta anzi ancora meglio perché qui col jeans poi col tempo magari si lise e viera via invece se avete quella macchina quella specie di pistola che fa i buchi alle cinture e mette anche questi anellini di metallo forati va benissimo va ancora meglio io ce l'ho ma ce l'ha mio padre ecco quindi tempo che gli spiego quale voglio tempo che me la cerca boh ho detto facciamo così perché se no il tutorial lo facevamo per Pasqua dell'anno prossimo allora idem adesso attacchiamo qualche perlina io le ho scelte soft in argento ma nulla vi vieta di metterle più accese in modo che risaltino di più sulla 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 vostra collana idem la perlina esattamente come abbiamo messo il ciondolino infilate infilate dentro una piega del vostro jeans andate a infilare ragazze queste non potete incollarle ovviamente dovete cucirle perline paillettes perché appunto è una collana se le andate a incollare con la colda a caldo fate come le magliette dei cinesi che hanno tutti gli strassini attaccati e dopo 5 minuti cominciate a perdere strass da tutte le parti quindi dovete cucirle ecco piuttosto attaccatene qualcuna in meno vedete un pochettino ma dovete cucirle non ci sono alternative quindi entrate e uscite dai buchini della vostra perlina un paio di volte così siete sicure che perline paillettes o quello che applicherete non non si perderà fate due o tre giri e anche qui è fatta venire un'idea per la borsa Sandra ha avuto un'idea per la borsa magari farai una cosa simile per non lo so non lo vogliamo sapere a sorpresa ci stupirai con effetti speciali ok diamo un paio di giri in modo da bloccare bene la perlina ecco vi farà perdere un po' di tempo questa cosa qui è di attaccare le perline e tutto però fatelo perché è carino darà ecco darà più effetto vedete tagliate poi l'eccesso adesso io ne aggiungerò altre ecco vedete uno ogni tanto io ne ho messa uno ogni tanto ovviamente io l'ho messa molto soft se le mettete che ne so rosse fucsia verdi spiccheranno di più a me piaceva mi piace un po' soft le cose quindi ho scelto argento e jeans ok allora questa settimana c'è rosa ricordo come si chiama mi sono persa ragazze vi sta rispondendo cinza perché mi sono persa un po' di messaggi e questa è la collana avete capito tutti semplice no adesso le perline non si vedranno secondo me non so se si vedono bene perché sono appunto argento e jeans spiccano poco però aspettate che forse qua ce l'avevo viola per farvi vedere se le mettete viola argento oro sai qua ecco ma perché io le apro sempre al contrario le perline le paillettes tutte le fante volte sempre ecco io avevo queste viola melange che ero indecisa se metterle queste vedete che se magari ecco andate con un colore un po' più acceso si vedono forse un pochettino di più ecco adesso io queste le ho solo appoggiate ecco ma per farvi vedere vedete se mettete un altro colore spiccheranno un pochettino di più lì a vostro gusto personale tanto non ne servono tante bastano sette o otto per striscia e già vedrete che si notano e qui la collana finita facciamo l'orecchino che tanto abbiamo fatto veloce ragazze eh sì è molto semplice ragazze ma se provate a farla ehm è molto d'effetto perché vedete guardate immaginate aspettate guardate immaginate con gli orecchini la parure guardate che bella adesso io non ho montato la catena ma tanto è facile da capire eh guardate che bella l'effetto insieme agli orecchini molto molto d'effetto ecco sì fucsia che va di boda potete usare tanto andiamo verso la primavera anche tutti queste tinte flow verde mela giallo queste perline ultra colorate farla più strong eh l'orecchino allora l'orecchino io lo tolgo un attimo ecco ve lo faccio vedere questo è l'orecchino ancora più facile che la collana l'orecchino prendiamo sempre il nostro ago e filo spesso ok cosa o quello se no quello di nylon va anche bene ragazze io allora tagliamolo un pezzettino infiliamo ecco Gianna sì è vero anche nere anche delle perline nere sono molto belle anche oro spiccano tanto diciamo che io i ciondolini ce li avevo argento e quindi ho optato per l'argento potete anche non mettere i ciondolini ci sono anche dei bottoni carini ci sono anche delle piccole perle a forma di anguria mela tutte quelle cose a forma di frutta potete farne anche un estiva così a dormire vado no non vado da nessuna parte allora sì Sandra questo è un filo di cotone dell'uncinetto questo qui che uso praticamente per tutto per punto filsa per punto festone per la qualunque cosa allora riprendiamo i nostri pezzettini facciamo come allora no prima aspettate ragazzi che non mi ricordo più come come sono partita aspettate che c'è un attimo un dubbio fatto così aspettate ragazzi l'ho fatto prima ma l'ho fatto e mi sono mi sono dimenticato un attimo aspettate che capisco come l'ho fatto ah ok sì ci siamo prendete la la nostra la nostra sì infatti l'ho messa apposta la maglia nera l'ho messa l'ho cambiata prima proprio per farvi vedere che come spicca su un colore tinta unita tipo il nero vedete l'ho messa apposta ce l'avevo era grigia quella che avevo l'ho cambiata l'ho messa nera proprio per farvi vedere prendiamo la nostra monachina ecco facciamo così io ho fatto così praticamente ragazzi non mi ricordo più ma perché non mi ricordo più vabbè cominciamo vediamo l'ho fatto prima allora infiliamo sempre il nostro jeans perché non era in preventivo gli orecchini me li all'ultimo minuto ho detto ma se facessi anche gli orecchini e non ho prestato caso come li facevo adesso mi viene il dubbio di come li ho fatti facciamo ho già 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 partita male ragazzi eh eh date pazienza eh ok un attimo di amnesia non mi ricordo più come ho fatto sto cavolo di orecchino allora ho fatto così ho infilato così poi ho preso i pezzettini qui cercate di piegarli un pochettino di più in modo che vengano un pochettino più piccoli quindi mentre nella collana lasciate pezzi più più a fronzoli qui cercate di chiudere un pochettino di più la cosa andate ok a fare la stessa cosa ok Cinzia tanto noi ci sentiamo domani tanto abbiamo quasi finito ai cinque minuti ragazzi abbiamo finito così qui fate un po più giri e tenetevi più più strette nella entra ed esci perché sennò viene troppo grande come orecchino più o meno dovrete avere dare la stessa lunghezza a quello che avete fatto il primo che avete fatto ok adesso mi viene venuto in mente come l'ho fatto infilate semplicemente così guardate che più o meno siano della stessa lunghezza tutti e due quando avete infilato così prendete la vostra monachina infilate dentro il bucchino e ripassate di nuovo dentro dentro a tutti gli strati ok vedete in modo che rimanga così capito sì perché io vi taggo però poi a volte può capitare che uno si dimentica quindi entrate quando siete usciti entrate nel bucchino e ripassate di nuovo dentro tutti gli strati guardate che più o meno siano della stessa lunghezza a questo punto al fondo io qui ho preso un anellino di questi l'ho allargato ho preso la nostra medaglietta ho infilato la medaglietta ho chiuso anche qui avevo le pinze per chiudere aprire chissà che fine hanno fatto e tolgo l'ago e non faccio nient'altro che infilare dentro il nostro buchino ricontrollo che più o meno siano della stessa lunghezza più o meno perché tanto è un lavoro artigianale quindi anche se non è proprio al millimetro uguale ma più o meno che uno non sia lungo 5 centimetri l'altro 8 poi potete farli anche più lunghi e scegliete voi potete anche farli lunghi 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 io questi non li ho fatti troppo lunghi ma magari i prossimi li farò più lunghi a me piacciono molto gli orecchini grandi d'effetto andate a tagliare l'eccesso ok voilà ed eccoli qua aspettate che alza un po' di nuovo mi sta chiamando quindi vedrete aspettate ragazze come non trovo il buio metto talmente poco orecchini e cose varie che non trovo i buchi ok questi vedete guardate che carini che sono semplicissimi quanto ci abbiamo messo tre secondi a realizzarli questa è la collana che devo aspettare che si finisca di asciugare per poi montarla su guardate guardate che super effetto figa eh e avete fatto la parura costo praticamente zero in mezz'oretta fate sia orecchini che collana un'oretta ti è fate sia orecchini che che collana che ne dite piaciuto grazie verusca vi è piaciuto come progetto mi raccomando realizzate perché voglio vedere come vi vengono a voi ecco non abbiamo neanche mai realizzato diciamo bigiotterie gioielli vari quindi secondo me come prima cosa è carina e se la fate vedete che dal vivo è molto molto bella è molto d'effetto forse in video perde un pochettino qualche domanda non credo totalmente facile sta diretta è stata che non credo che ci siano non posso montarla perché appunto c'è la colla la sento che è troppo fresca ancora ecco però sì sì ma vedrai che stanno stanno bene anche voi ragazze se le fate perché sono molto d'effetto quindi immaginatevi magari tutte vestite di nero o di grigio o di rosso di un monocolore con una parure così secondo me dove andate andatevi chiedono dove l'avete comprata ne sono sicura ok c'è qualche domanda qualche cosa che volete chiedermi se no vi do la buonanotte e ci vediamo poi prossimamente aspetto ancora due secondini ragazze poi vi saluto chiamo il mio compagno che che starà già pensando che sono con l'amante sicuramente qualche domanda qualche cosa non vi è ancora chiara non vi è stata chiara si potrebbe aggiungere un'altra stoffa fantasia magari ma sì 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 solo che con le stoffe col jeans perché quando andiamo a piegarlo avanti e indietro più o meno il jeans magari se usiamo della stoffa di cotone la parte non so come possa venire perché magari la parte sotto di solito è sempre bianca quindi non lo so se l'effetto sia così bello però si può provare potete provate con anche altre stoffe se avete dei ritagli provate montate su tanto vedete non ci va niente e vedete l'effetto se vi piace bene se no smontate e via o lasciate proprio così tanto è fatto appunto con i pezzi che in teoria vedi voi buttate noi abbiamo fatto questa bellissima parure la collana di fiori in jeans allora ne farò altre di collane in jeans non quella con i fiori però non quella con i fiori perché il fiore ve l'ho già fatto vedere la struttura sotto utilizzate la medesima andrete semplicemente ad applicarli uno vicino all'altro questi qui e potete farla con le roselline che abbiamo fatto nel tutorial la scorsa settimana l'importante magari farle anche un po' più piccoline le roselline farle di diverse misure e poi le andrete a comporre tipo puzzle come vi piaccia a noi con lo stesso principio di quella che abbiamo fatto adesso utilizzando le roselline del tutorial dell'altra settimana e quindi potrete farla con le roselline e idem l'orecchino potrete fare mettendo magari vari anellini di questi qua vari anellini alla monachella che scendono giù ecco e quindi fare gli anellini anellini e l'ultimo infilarlo alla rosellina o magari farne due rose uno da una parte e uno dall'altra e poi le incollate in modo che anche se si giri avrete sempre la parte della rosa capito magari un po' più piccola di questa però mettere rosa e rosa incollate con la catenella e poi attaccate alla monachina e quindi così potete fare sempre l'altra versione di paruro però con le roselline quindi non farò un tutorial perché è semplicemente un assemblaggio delle roselline che abbiamo già fatto più questa qui quindi basta basta cambiare diciamo il decoro ma si può fare appunto con le roselline rimpicciolendo la misura ovviamente prendete una striscia più corta più sottile fate delle roselline più piccole sembra ricorrere i progetti ma con doppia rosa diventa pesante ma è leggera questa è Pasquina se fate calcolate che dovete fare delle roselline più piccole ecco quindi doppia rosellina se calcolate che fate la metà di questa rosa diventerà pesante come questa se no potete fare un dischetto dietro un dischetto sempre di jeans e infilate sempre la catenella e la andate poi a montare qui solo che ho paura non lo so se portandola muovendo si girerà la rosa o no provate ecco provate perché io la bigiotteria con il jeans la sto facendo con voi per la prima volta insieme quindi non so non saprei esperimento anch'io quindi sperimentate vedete ok ragazze vi do la buonanotte ci vediamo nel prossimo tutorial adesso magari un paio di giorni mi riposo perché le due giorni che corro come una matta tra il corso di borse e questo qui e fai la collana e prepara le cose prepara quell'altro e magari fine settimana ci vediamo per qualche altro tutorial adesso vediamo ovviamente sempre rigorosamente col jeans quindi raccattateli in giro buonanotte ragazzi e alla prossima